Ciao Germano Buongiorno Allora, io vorrei Non ho capito, non capisco cosa dici Non ho detto niente Ah, niente, volevo dedicare tutto Pepe a Carla e Anna Grazie Grazie a te, ciao 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 È stato un piacere Grazie a te, ciao Buongiorno Ed ecco qui questo bel momento di armonia allegra che ci riporta un po' d'allegria appunto e ne abbiamo bisogno Pronto Grazie a te, ciao Grazie a te, ciao